Nel video precedente abbiamo scritto la funzione che controlla se esiste o no un certo file in una certa posizione, in un certo path. Usandola per controllare se esiste il file di backup che deve essere creato solo alla prima partenza del programma o quantomeno all'inizio di ogni turno di interrogazione, cambiando eventualmente l'elenco degli alunni, cambiando classe, accorgendosi della mancanza dello stesso, cioè se non questo punto esclamativo va a negare il risultato booleano di esiste il file, se non esiste il file di backup, allora creiamolo. In realtà è un duplichiamolo, prenderemo come in questo momento il contenuto del file alunni.txt, a quello punta la variabile path.file.unni e riga per riga ne faremo una copia nel file di backup, alunni.backup.txt. Ma la funzione potremo poi utilizzarla per fare un duplicato di qualunque file di testo e lo vedremo più avanti nel menu, la useremo in un certo senso contrario quando, resettando il meccanismo per ricominciare un nuovo turno di interrogazione, dovremo riprendere il contenuto del file di backup e copiarcelo nel file del alunni per poter ricominciare da zero. Andiamo allora all'implementazione della funzione copia file, find implementation of copia file. Ho deciso, non è che sia per forza questa l'unica scelta, di far restituire a questa funzione un intero, con che significato? Con dei valori negativi, tipo questo, segnalerò al chiamante, al main in questo caso, che c'è stato un problema, meno uno file non trovato, perché ho tentato di aprire in lettura il file da cui devo leggere, non lo trovo, avrei anche potuto sfruttare qua la funzione esiste, quasi quasi lo faccio, ecco, se non esiste il file sorgente, non c'è proprio nulla da copiare, return meno uno, potrebbe essere anche meno due, meno tre, meno mille, ma non un valore, neanche zero, perché vorrebbe dire che il file esisteva, vuoto, e quindi ho copiato zero righe, perché questo int, quando maggiore di zero, andrà a significare il numero di righe che sono state copiate dal sorgente alla destinazione, è utile poi vedrete in diverse situazioni. Sono poi stato un po' pigro, nel senso che non ho controllato per un fallimento in creazione, che è, penso, più raro, però, in seconda battuta, si può andare a verificare lo stato della variabile OFStream, se l'operazione non fosse andata a buon fine, il valore associato sarebbe assimilabile a un false, e allora potremmo andarlo a controllare in questo modo, if not, destinazione, cioè se non ce l'abbiamo fatta, a creare il file destinazione, chiudiamo e resettiamo i file d'errore sul file sorgente, perché quello ce l'avevamo fatta, e poi return, un altro valore negativo, per distinguere dal caso precedente, potremmo scegliere un meno due, return al meno due. A seguire, la variabile con cui leggere una riga dopo l'altra da sorgente, un contatore, per sapere, al fine, quante ne sono state copiate di queste righe, e il classico ciclo while, che va a consumare tutte le righe, una dopo l'altra, dal file sorgente, finché la get line, da quel file sorgente, riesce a leggere una nuova riga, e a memorizzarla nella variabile riga, questo era per del debug a suo tempo, si prende quella stessa riga, e la si invia con l'operatore standard di inserzione, un po' come se fosse un shout per intenderci, ma qua abbiamo destinazione, si invia quella riga sul file destinazione. Non dimentichiamoci di aggiungere, dopo ogni riga, anche l'endline. Incremento del contatore. Non ho esagerato, gestendo anche possibili anomalie problematiche durante la scrittura. Forse su una chiavetta, magari la chiavetta viene staccata troppo presto, o durante la scrittura, il disco potrebbe essere pieno a un certo punto, riesco a copiare metà del file, poi l'altra metà non ci sta. Ok, andremmo veramente su un livello un po' pesantuccio nel contesto scolastico. È molto probabile, in realtà, che l'operazione vada a buon fine. Chiudiamo e ripuliamo col clear, sia sorgente che destinazione. Ultimo atto, restituire il numero di righe copiate. Si ritorna al main. Siamo ancora in fase di setup, prima di sparare sul video il menu, per intenderci. Creiamo il file di backup, se necessario. Lo faremo soltanto alla prima partenza del programma. Oppure, dopo averlo cancellato noi manualmente, magari perché abbiamo cambiato l'elenco degli alunni. E ora, dobbiamo predisporci per leggere l'elenco degli alunni ancora da interrogare, dal file alunni.txt. Prepariamo però un po' di array. Farò riferimento a questa costante, max alunni. 40 è davvero difficile che sia superato come valore, come numero di alunni per una singola classe. L'anno prossimo vedremo delle tecniche che a runtime permetteranno di creare array grandi, esattamente quanto ci servono in quel momento. Potremmo decidere che sulla prima riga, ad esempio, del file degli alunni, mettere il numero di alunni, 38, 45, 100, 2, quali che sono, sotto quel numero di righe, ma leggendo la prima riga potremmo andare a creare un array grande esattamente quello che ci serve. Per ora, dobbiamo limitarci a questa tecnica statica, che però ha il vantaggio di essere abbastanza più semplice da programmare e che spesso non ci pone seri limiti e non ci fa neppure sprecare così tanto spazio. Questo è l'array in cui andrò a caricare l'elenco dei nominativi degli alunni e questo, che non useremo fin da subito, servirà durante le estrazioni a memorizzare l'elenco degli interrogati. Quanti? Eh, ce lo dirà questa variabile. Quanti da interrogare? Chiederemo poi, in fase di sorteggio, al prof, quanti ne vuoi interrogare. Il contenitore ce l'abbiamo, riempiamolo con il contenuto del file all'unitxt. Di nuovo, l'operazione di leggersi dei dati da un file di testo caricando quelle righe in un array è una cosa non comune, di più per qualunque tipo di applicativo. Mi armo ancora di un pochino di pazienza, decido di fare un piccolo sforzo in più che poi varrà e si ripagherà mille volte in futuro scrivendo una funzione a cui dico guarda, c'è questo file, pathfilealunni e c'è questo array che ha questa capienza. Mi carichi tutto il file riga per riga e me lo metti nell'array alunni? Grazie. La funzione, anche questa è una scelta mia, potrebbe essere diversa, mi è sembrato fosse comodo che restituisse il numero di elementi letti dal file e sono poi, se ci pensate, gli allunni rimasti da interrogare. Quindi caricami quel file e voglio sapere quanti allunni c'è trovato dentro per poi organizzare gli altri cicli, le estrazioni con il random per sapere fin dove arrivare come numero e cose di questo tipo. Andiamo all'implementazione di questa carica array da file. I parametri li abbiamo appena commentati. Devo contare le righe man mano che le leggo. Anche in questo caso, sono andato un po' col piloto automatico. Beh, ma se vuoi controllare prima di cominciare a leggere se quel file esiste o no, ce l'abbiamo già, no? La funzioncina. Di nuovo. Se non esiste il file peffile return 0 altrimenti neanche perdo tempo a dichiarare questa variabile dichiarare la variabile conta il numero di righe che avremo letto apri sai che avrà successo a questo punto il file peffile questo sparisce perché l'abbiamo già controllato finché lo si può fare e cioè finché non ha esaurito la capienza del vettore al momento è 40 capitasse caso strano limite una classe di 41 andrei ad esaurire il vettore leggerei le prime 40 righe poi mi devo accorgere che il contatore non è più inferiore alla capienza e devo terminare il ciclo di lettura perché manderei probabilmente in crash il programma nel main potrei poi accorgermi che non è stato caricato tutto facendo confronto tra il numero supposto degli alunni e il numero restituito da carica array ma diciamo lo sappiamo che questa condizione è molto difficile che diventi falsa ed è quindi la falsità della seconda che decreterà il momento di abbandonare questo ciclo e questa rimarrà vera fin tanto che ci saranno ancora righe cioè nominativi di alunni da leggere dal file notate come abbia indicato come destinazione per ciò che legge la get line direttamente una casella dell'array v di conta e forse vi starete domandando ma perché sei stato così generico perché pathfile e non pathfile alunni devi caricare gli alunni e perché qua non hai messo alunni come nome di questo array e invece di capienza array non potevi mettere max alunni tecnicamente non avrebbe fatto una piega però andavo un po' a negare la genericità di questa funzione che mi piacerebbe magari utilizzare in altri contesti in altri progetti dove devo comunque caricare un file ma potrebbe essere un file di qualunque altra cosa non per forza i nomi di alunni questa forma quindi è più generica guarda dammi un file qualunque di testo dimmi qual è l'array non me ne frega nulla sapere se sono nomi di alunni o che un array di stringhe dimmi quanto è capiente l'array e io te lo riempio basta saranno i nomi delle variabili che indicheremo al momento della chiamata nel menu in questo caso che renderà chiaro per quale motivo con quale tipo di dati si sta lavorando nel chiamare la carica array capite che se avessi utilizzato invece pathfile alunni alunni come nome dell'array max alunni poi cambio progetto un domani noi stessi o colleghi vanno a vedere il codice dunque questo qua serve a caricare il file degli alunni ma che caspiterina c'entrano gli alunni qua stiamo facendo un programma di contabilità bancaria capite ok il while va avanti a leggere righe da quel file ogni volta che ne piazza una incrementa poi il contatore e quindi la posizione in cui andrà a mettere la prossima di riga se ci sarà esaurito il file la solda chiusura e pulizia dei bit di stato e come previsto dal contratto d'uso di questa funzione restituiamo il numero di righe lette e siamo di nuovo al main abbiamo creato eventualmente il backup ci siamo caricati in memoria l'elenco degli alunni ancora da interrogare siamo pronti per iniziare l'interazione con l'utente con l'ipotetico prof cosa vuoi fare sorteggiare stampare e dobbiamo insomma presentare a video quello che viene comunemente indicato come il menu delle scelte ma io non vorrei anzi non voglio scrivere il codice che gestisce questo particolare menu che ha senso solo per la gestione dei sorteggi vorrei un sistema quindi una funzione dove di volta in volta posso indicare quali sono le voci che devono essere stampate 3, 4, 40 il menu la funzione in automatico si accerta che la voce scelta sia in quell'intervallo lì 1, 5 in questo caso e poi ci restituisce ah l'utente ha scelto 3 l'utente ha scelto il terminale e quindi ha scelto 5 stop allora le voci da stampare non devono essere fisse le passo alla funzione sotto forma di un array di stringhe quella per uscire verrà aggiunta in automatico dipende dal numero delle altre e quante sono 4 in questo caso il valore lo memorizzo in questa variabile numero voci menu che ci serve anche per decidere quando si abbandona il main cioè quando si esce dal programma insomma quando il menu dirà guarda l'utente ha scelto 5 la voce per uscire in questo caso ah va bene while scelta diverso da 5 ah no è uguale a 5 usciamo perciò siamo ormai a commentare il ciclo principale nel main che continua a proporre il menu finché non si sceglie la voce per uscire al ritorno al menu quello con il return ci restituisce il numero corrispondente della voce scelta e noi con uno switch andiamo a differenziare ah ha scelto uno ok facciamo questo ha scelto due case 2 quest'altro e così via ma prima di entrare nella logica di ciascun caso del case andiamo a vedere come ho scritto la funzione menu anticipo per i miei alunni che l'ho semplificata lei è anche quella che poi internamente viene chiamata la legge numero intero e saremo allora tutti contenti andiamo all'implementazione eccola non scherzavo quando dicevo che l'ho semplificata cosa fa il menu beh stampa le voci che ha ricevuto aggiunge in automatico quella con più uno rispetto a quel numero che corrisponde stop termine del programma e poi restituisce la scelta dell'utente che viene letta da un'altra funzione di nuovo in quante situazioni diverse mille mila ci potremmo ritrovare a dover chiedere un valore intero controllando che sia all'interno di un intervallo qua per noi nel menu è tra uno e quante voci più uno ma potrebbero essere dei centimetri per delle altezze da uno a duecentocinquanta oppure dei chili dei chilometri quello che volete un intero saremo noi di volta in volta a dare significato a quell'intero per la legge intero è semplicemente un numero tra uno 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 perché in questo caso è uno potrei anche mettere meno cinquanta e quante voci più uno e questo è il messaggio con cui la legge intero andrà a sollecitare l'input da parte dell'utente la voce scelta sarà restituita con il ritorno da legge intero e la menu a sua volta la restituisce al main al chiamante del menu la legge intero anche là è piuttosto semplice è qua appena sopra riceve gli estremi minimo e massimo il messaggio da stampare leggerà il numero nella variabile intera letto e continua a richiedere quel numero finché l'utente insisterà nello sbagliare scrive il messaggio suggerisce anche tra parentesi l'intervallo da rispettare legge il numero da tastiera ma l'utente potrebbe comunque sbagliare il controllo lo facciamo qua messaggio d'errore ribadisco l'intervallo di accettabilità a quel punto se avesse sbagliato questo while sarebbe vero perché avrà sbagliato inserendo o un valore troppo piccolo o un valore troppo grande al che si ripeterebbe finché finalmente letto sarà nell'intervallo richiesto notate che gli estremi si intendono compresi cioè da minimo compreso accettato 1 compreso accettato a massimo 5 compreso accettato o stiamo entrando nel vivo di questo programma è tutto sommato fino ad ora abbiamo sviluppato funzioni generiche utili in tanti contesti ripetiamo chiamiamo il menu otteniamo la scelta cosa ha scelto case 1 non il sorgeggio ma il sorteggio interrogati guardate la logica semplice perché fa uso di funzioni il compitino che vi lascio per la prossima volta è di implementarle intanto se non sono avanzati alunni da interrogare è inutile procedere se gli alunni rimasti fosse 0 ok nessun alunno rimasto da interrogare non si fa nulla si ripresenterà il menu e probabilmente il comando giusto che avrebbe dovuto impartire il prof è 4 ore 7 cominciamo da capo con tutti gli alunni in gioco altrimenti si può davvero sorteggiare devo chiedere quanti ne vuole interrogare ma che bello abbiamo già pronto la legge intero chiediamolo sapendo che minimo sarà 1 all'1 di interrogare e al massimo o se vuole fare una strage anche tutti quelli rimasti l'intervallo è comunque questo da 1 all'1 rimasti e la richiesta sarà con questo messaggio quanti da interrogare legge intero non mollerà l'utente finché non avrà ottenuto un valore nell'intervallo accettabile quello è il numero degli alunni da interrogare il compitino che vi lascio sorteggia sorteggia che compito ha beh gli dico quanti ne voglio interrogare quanti alunni mi sono rimasti altrimenti non può procedere l'array che contiene l'elenco dei nomi di quelli che devono ancora essere interrogati vabbè io mi aspetto indietro come risultato i nomi di quelli da interrogare 3, 4, 5 quelli che sono ma dove li stampa no molto brutto una volta stampati rimangono lì si perdono nell'aria non potrei richiamarli per rivedere l'ultimo sorteggio non potrei fare niente no no il modo corretto è ti fornisco un parametro in più questo interrogati che è un array di string lì la funzione sorteggia andrà a copiare i nomi degli alunni sorteggiati che bisogna fare in modo non siano più considerati poi nell'elenco degli alunni rimasti poi se voglio e qui in effetti lo voglio stamperò con l'elenco con una funzioncina stampa array di string ti dico qual è l'array delle stringhe da stampare e quanti sono ovviamente quanti a interrogare andiamo ad aggiornare allora su disco l'elenco degli alunni che sono rimasti da interrogare lo facciamo con una funzione che tornerà utile in tanti altri contesti salva array su file il nome dovrebbe dirci tutto fornisco un array di stringhe qua l'ho detto in aula preferisco vedere vicino al parametro che corrisponde all'array il numero dei suoi elementi o meglio quanti considerarne e il file il path del file sul quale andare a registrare queste stringhe contenute nell'array chiaro che per avere un senso questo comando significa che sorteggia organizza le cose in modo tale che in alunni nelle prime posizioni tra 0 e alunni rimasti meno 1 siano rimasti davvero quelli ancora a interrogare e li vado a salvare in modo permanente su disco nel file alunni va bene vi lascio allora da implementare provateci anche nella vostra versione non per forza esattamente come vi sto ho descritto io la sorteggia e la salva array su file vi metto magari il link per scaricare la parte di codici che abbiamo già condiviso e quella che invece dovete ancora fare ve la nascondo ve la tolgo mi fermo qui c'è bisogno di un terzo penso ultimo video a risentirci grazie a tutti grazie a tutti